I giochi mondiali universitari invernali in programma a Torino nel gennaio 2025 prendono forma e colori, svelando il design delle medaglie e il manifesto ufficiale che caratterizzerà il look of the city. Nella sala panoramica della sede della città metropolitana di Torino, il comitato organizzatore ha presentato il frutto della collaborazione con l'Accademia Albertina di Belle Arti per la creazione delle medaglie, che andranno al collo dei migliori studenti atleti della neve e del ghiaccio. E' stato anche presentato il manifesto che verrà declinato nei vari formati del look of the city, delle città ospitanti, realizzato dal duo creativo Van Horton Design. A fare gli onori di casa il consigliere metropolitano delegato all'ambiente Alessandro Sicchiero. Per ideare le medaglie gli studenti dell'Accademia Albertina hanno lavorato su due concept distinti, uno per lo sport, uno per il brainstorm. Per le medaglie sportive era stato richiesto di valorizzare il concetto di Torino città delle Alpi, metro montana. Per le medaglie Brain è stata richiesta l'elaborazione di un elemento grafico creativo incentrato sul concetto di Piemonte come hub e rete di innovazione dal food all'aerospazio. La studentessa Matilda Elia ha vinto il concorso in entrambe le aree. Che messaggio vuole lanciare questo design delle medaglie di Torino 2025? Vuole sicuramente valorizzare la città di Torino, quindi ho voluto raccontarla attraverso la sua piantina che è caratterizzante della città. La seconda per esempio ha la differenza non solo stilistica ma proprio a livello compositivo, quindi ricorda un po' un atomo perché l'obiettivo era quello di rappresentare anche Torino come centro spaziale, come hub. Per la realizzazione dell'artwork ci siamo principalmente concentrati sulle discipline sportive invernali da rappresentare. Abbiamo fatto in modo che potessero sposarsi bene insieme tramite l'utilizzo di queste linee che si vanno un po' a incastrare. Anche queste cromie, geometrie e anche texture che si vanno a incastrare vanno a formare l'intero artwork. Lo slancio atletico è quello che abbiamo cercato di valorizzare al massimo anche stilizzandolo un po'. La sfida qui è stata anche quella di mantenere le nostre tipiche cromie che utilizziamo nei nostri lavori però mantenendo intatto quelli che sono i colori di Fisu Games con un risultato che fosse amalgamato e direi che ci siamo riusciti.